DIAVOLO Oh, oh, aspetta È una specie di trappola mortale? Eh, sì Assieme agli altri sono riusciti a superarla Basta seguire le tracce Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto Cerca solo di non allontanarti dalle impronte Cosa? Al momento la mia unica preoccupazione è non saltare in aria E... andata Elena, guarda Le tracce si fermano qui Deve essere crollato dopo il loro passaggio Ehi, basterà togliere di mezzo questo? Sì Cavoli Cerchiamo un'altra strada Oh no, non mi lasciare proprio ora Merda Forza Oh, cazzo Ehi, hai ancora l'accendino di Sam? Sì, ottima idea Andiamo Dai, dai, dai Scarico, è ovvio Ha fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca Tranquillo Ho dei fiammiferi Davvero? Ovvio Ecco fatto Oh, scusa Un attimo Ciao Di qua Ehi, qui Grazie, sei stata previdente Uno dei due deve esserlo Forza, cerchiamo un passaggio Che atmosfera romantica Hai uno strano concetto di romanticismo Sì, è vero Sì, è vero Ehi, promette bene Se ti spingo? Sì Andiamo Ok, forza, dai Ok Vieni su Ok, grazie Occhio alla testa Sì Attenzione Wow E questo cosa sarebbe? È inquietante Le mani che mi derubarono Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia Questo posto non mi piace E anche a me Andiamocene Piccolo cieco Ehi, guarda Avery avanzavano dalle gabbie Chebe Cosa? Si chiamavano chebe Sicuro? Sì Odio quando fai la sapientona Che è bene E questa cos'è? Stai bene? Sì, più o meno Che cos'era? Una trappola Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto Ok, sta attenta Io? Sei tu che ci sei salito sopra Ok Starò attento Oh merda Oh porco cazzo Stai bene? Sì, per ora a posto Preferisco tenere le distanze Già Merda Stai bene? Sì Beh Ora sappiamo cosa ha provocato le esplosioni di prima Sì Ora capisco il motivo di tutti questi crolli Nate Ho trovato una scorciatoia Sicura sia una scorciatoia? Mi piace essere ottimista Oh, d'accordo Santo cielo Every ha decorato anche questa stanza? Altri ciondoli umani Oh, cavolo Altre mummie Non esplodete, per favore Ehi Attento Oh, cavolo Ho chiesto per favore Guarda se Non credo faccia bene a respirare questa roba Nate, stai bene? Bene, bene È peccato non avere tappi per le orecchie Sto urlando? Beh, abbiamo ritrovato la pista Le impronte vanno di qua Di scatola in vista? Ci sono abituata Era una frecciatina su di me No, calmati, ok? No Calmati tu Eh, i nostri amici devono essersi distratti Nessuna traccia di Sam Lo troveremo Elena, riparo! Così farete crollare tutto, idioti! Prova di raggi intorno Oh, no, 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 no Oh, no, no! Oh, no, 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 no Non hai speranze. Lancio. Un'uva tena. Grazie a tutti Cazzo Li abbiamo trovati È tutto inutile Cazzo 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 Beh, per una volta apprezzo le mummie esplosive di Avery Andiamo a prendere quei razzi Buona idea Le bocche che mi infamarono Non osi immaginare il suo albero di Natale Non vedo impronte Forse ci siamo allontanati dal percorso degli altri Dai, cerchiamo di recuperare Qui devono aver combattuto Sì, i pirati di Tew e quelli di Avery Ma ciò, ehi, quindi girai intorno? Sembra di sì Sembra di sì Cavolo Questo era un uomo di Avery I morti non parlano C'è un uomo di Avery No è un uomo di Avery scusa ehi la simone chiave cosa pensate vediamo è di Tew per i suoi uomini possiamo usare la chiave per uscire fantastica sul retro ci sono dei simboli dai cerchiamo una serratura oh mamma merda sto bene stai per esplodere no tu invece questo tizio doveva essere paranoico wow oddio 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 avete finito ho pieni riflessi grazie le ossa appese erano più inquietanti anche questi non scherzano ma gli darei un 3 su 10 io dico 4 ma si 4 4 mi si sono tappate le orecchie sì stiamo decisamente scendendo ok un'altra trappola mortale già nessuna impronta da seguire i simboli corrispondono a quelli sui pali Tew aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole ok partiamo con il piede giusto seguimi d'accordo sì ma fai attenzione faccio sempre attenzione parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario beh sai non ho molta esperienza con le mummie anti uomo scusa fin qui tutto bene sì tocchiamo ferro meglio di no magari è manomesso sì giusto ecco fatto alla faccia tua Avery ecco la nostra via d'uscita mio dio questi sono i resti degli uomini di Tew sì è probabile Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici e amava ancora di più far esplodere le mummie già cerchiamo di muoverci con cautela serratura chiave ehi sei una trappola? beh non abbiamo molta scelta mamma ma ho un buon presentimento sì ok dietro hai visto? beh almeno non siamo saltati in aria oh merda non è che avresti un coltello vero? no ma quel tizio ha una spada ecco aiutami a farlo dondolare nate andiamo andiamo via via oh dio corri e basta sono fermati corri corri ci sono dietro Jane muore il culo andiamo andiamo tirati sotto sì sì grazie capitano avrei come ai vecchi tempi eh Elena Elena ehi ehi Elena andiamo Elena il mio eroe dimmi che non l'hai fatto no non è divertente oh tu ne hai combinate di molto peggio oddio mi hai fatto venire un cazzo di infarto oh fammi sentire a me sembra in forma lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato sì proprio tutto no no neanche per sogno guarda i fango ovunque ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo sì qualcuno me l'aveva già fatto notare bel discorso un bel discorso quello deve essere sempre forza dicando di